Perdonatemi, perdonatemi davvero, ma ho avuto, con l'ultimo colpo di sclero, ho spaccato una ciabatta. Guarda quanto vuole partire forte da te, è bellissima. Ma che cos'è che sta capitando? C'è qualcosa che... Aspettate ragazzi un minuto, un minuto, perché qua è successa una cosa, con l'ultimo colpo di sclero che ho avuto, praticamente, i tasti, tutte cose all'aria, ecco, bra, praticamente, praticamente si è rotta la ciabatta, quindi ho dovuto cambiare la ciabatta, niente, no, no, non si può capire, ragazzi, non si può capire. Bruttissimo, cioè, non capivo da dove era, perché si staccava la ciabatta, non si accendeva, no, niente, basta, ragazzi. Rieccomi. La colpa è di questi prele che mi uccidono in quel modo, come si... ma che comportazione è che mi devono uccidere in quel modo, eh? La ciabatta non è cinese, la ciabatta è buona. Minchia, non funziona più un'altra volta il ventilatore. Ah no, lo devo accendere. Ora, i miei amici, si staranno facendo qualche partita da soli o mi avranno aspettato? Dove sono? Ma non ci sono più neanche i miei amici, praticamente, hanno staccato tutti? No, comunque, raga, non si può morire in quel modo. Cioè, a quello ci avevo sparato. Il PC è vivo. Per fortuna il PC è vivo, forse. Fa un po' di rumore, perché con l'ultimo pugno che ho dato nel tavolo, praticamente, è statte femma, e con l'ultimo pugno che ho dato nel tavolo, sono saltato un paio di cose. Mamma mia. Lì l'ho. Il PC non è cinese. No, o forse sì. È made in Cina. È tutto made in Cina. Forse qua hai ragione. Forse qua hai ragione. Comunque, ma che state facendo? Ora, loro devono giocare con me. Ida. Oh, Ida. Ma avete fatto una partita senza di me? Cerca subito di tornare in lobby. Con me, Ale e Magico. Fagli uscire subito. Gia povera postazione. Ma io non lo so, ah. Ma è la colpa di tutto ciò. È di Fortnite, eh. La colpa è di Fortnite. Perché Fortnite è un gioco che ti fa prendere proprio... Spacca su tutte cose, praticamente, alla fine. Ma renditi conto come sono morto, va. Ancora io ci penso. Per due volte sono morto in quel modo. Io sono sicuro che invece, ragazzi, vi dico una cosa. Hanno levato il pompa del nonno per una cosa. Perché faceva prendere questi colpi di nervosismo così forti. Hanno levato il pompa del nonno per questo. Ehi, là. Io sono qua. Ehi. Adesso. Allora, ragazzi. Ragazzi. A ne ho un pinnacolo. Voi non potete capire che cosa è successo. Allora, praticamente, con l'ultimo colpo di sclero che mi è venuto... Ecco. Che ho lanciato anche le cuffie. È arrivata... Non si sono rotte. È arrivata... No, le cuffie non sono rotte. Ma la ciabatta si è rotta. Si è rotta il pulsante. Che è saltato, proprio. È scherzato, via. Ho dovuto... Come hai fatto? E' andata con un'altra ciabatta, un attimo. Ho messo tutte le cose. E via. No. Ma hai fatto ripartire la live? Certamente. Infatti, mi stavano aspettando. Mi fa, ma che è successo? Il PC è vivo. Ma eravamo tutti preoccupati, ragazzi. Se non c'è un pompa, mi arrapio. Cioè, ma voi immaginate... Ah, ma voi siete in game. Ancora a 34... 38 persone. Tu non hai un pompa? Non hai manco un pompa piccolo? No. Neanche un... Sono le 22 e 41. No, le 22 e 41. Lo puoi dire, vai. No, ancora no. È un pompino piccolo. No! No, no, non dire le cose brutte che dico io. Il leggendario Germano Mosconi. C'è una palla. Facciamo così pure. C'è una palla. C'è una palla. C'è gente che arriva. Allora, c'è la... Allora, c'è la palla. E arriva anche il vento della palla. C'è il vento del ventilatore di Ivan. C'è gente qua. Io mi sento solo. Il lobby. Sì, sono rotto. Morti. Oggi sto facendo danni. Oggi mi sento... Venite qua? Ah, cazzo. Al pipa un pa' che sono? Tom. L'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Perché se aspetti Ale che te li dà... Tom. Ti. Io l'ho dati. Aspetta, ora te li do io. Te li do io. Te li mando io. Il mio computer. Non mi dite niente che ho fatto una bella giocata. Io non l'ho pista. Io non l'ho pista. Quindi, fanculo. Carina. Carina. Allora, la mia... La mia, praticamente, postazione è così. Monitor. MSI. 144. Dobbiamo andare in safe, ragazzi. Io non ho già. Questo è il mio computer. Un computer è normalissimo. Anzi, questo non lo devo levare. Un computer è normalissimo. Tastiera pazzescona. Comprata a 40 euro. E' una mini tastiera. Perché io odio le tastiere con il block number. E mouse RGB. E-Tech. Taurus. Dai, guarda cosa c'è che ti godi. Io godo. Perché... Mettete la giamba. No, c'è il parent. Mettete la giamba. Mettete la giamba. Mettete la giamba e ce ne andiamo da qua. Io godo. No, no, aspetta. Vabbè. 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 Se l'ha volata o la pallina? Se l'ha volata? È scesa. Dai, non capisco io. Fammi da traduttore. È volata. È volata. Ah, ok. Ho qua. Fammi da traduttore. Ragazzi, stasera mi potete portare il volume. Bravo. Bravo, Ivan. Ivan? Oh, Ivan è qua. È fuori. L'ho smanto, è uno. Ma non l'ho capito. Ivan è fuori dalla partita. Bravo, Ivan. Uno è terra? Mi sono incasinata con le armi, Ale. Intendevo rifare vedere lo schermo del desktop. Ah, no, non lo posso fare. No, vado. WTF? Ah, sì, vabbè. Ida che dice WTF? WTF? Bravo, con lo scar anche io ce la faccio da lontano. Bravo. Vabbè, certo, anch'io con lo scar ce la faccio da lontano. Io anche con l'ago ce la faccio da lontano. Ma ho un invito al gruppo di GTA Rambus. Lo conoscete? No, io no. Io non lo accetterei. Io conosco il gioco, però. Espelle, espelle. Ok. Non lo posso. Ancuno. No, no, no. Non conosco gente nuova. Lo conoscerei io. Mi hanno buttato fuori. Mi hanno buttato fuori. Oh, pezzi di cacca che non siete tutte e tre. Mi hanno buttato fuori. Oh, ha riso anche Ale. Quindi è un evo. Perché se ha riso Ale siamo proprio stasera. Oh, Dio. In mia vita vorrei dire la seguente frase. Ehi, ti va un po' di Schweppes. Solo io e te. Ti va un po' di Schweppes. Ma guardate che io le battute le capisco poco. Quindi dovete spiegarmele. Mi, le... Ma la Schweppes. Come te lo devo dire? Ancora siamo in... Non sono le undici. L'ho detto Pompino ormai. Nella classifica singolo Allora HiGamer C'è un problema Io siccome sono una persona molto Riservata No no riservata no Non confondiamo Io praticamente sono una persona che mi prendo troppo di agitazione Quando io so giocare Ma nel singolo Quando arrivo le ultime 5 persone 6 persone C'è il cuore da qua che diventa peggio Di un mouse rgb Non devi fare tutte queste storie Devi dirgli che siccome hai degli amici carinissimi Giochi solo in squadra Ma non è vero Perché mi avete buttato anche fuori Cioè mi avete buttato fuori E dovrei dire io ora Stabagianata Ma sono stato io Così siamo vari Comunque avrò un 1.8 1.9 1.90 Mi sembra KD Dove andiamo ragazzi Se devi vengono racciarvi siamo a posto Guardi mi devo buttare io Ma ragazzi perché andate tutti via Io sono solo a palmetto Io praticamente mi sono buttato 3 ore dopo Perché non avevo capito che vi eravate buttato a palmetto Ma siamo una banda di matti Cioè siamo tosti Cioè ma appunto Ce ne possiamo andare Ce ne possiamo andare Ma io me ne vado verso coso qua Chi me lo fa fare è buttarmi là Ah dai Andiamo via Dopo 3 ore e mezza Cioè siete a terra Andiamo via Wow questo Grazie epic Grazie Oh Quello glione Ce ne due qua Presto Magico salta Vai 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 Io sono molto lontano Mi dispiace dirvelo Ho capito questa partita Questa partita me la farà da solo Con la flink Con la flink Addio Con la flink Addio Questa metraglietta di merda Vabbè praticamente siete morti tutti Ok Ivan è da buttare fuori stasera Ma scusatemi Ma lui mi ha detto Ale no è meglio che non ci andiamo Non ci andiamo Non ci andiamo Vabbè sto prendendo Per prendermi le cose Dai Sì ma non ci vuole fare Non mai E perché? Qualcuno la prende dai Quella con È coperta Ma c'è qualcuno con 70 Ma non te la Non te la fumare la sigaretta Fidati di me Fidati di me Che ne so di più io Quella è il devmaster Non la potrei prendere manco se Ma cosa sono ninja Cristiane cavolo E sto non ci sparare Però no Sai È come quello che C'ha il bersaglio mobile Che faccio Non ci sparo Bene primo Come se c'è troppa 100 Ancora Che lo so Mori Mi aggiungo anch'io La lista morti Non ti preoccupare Ecco Visto La salire La salire La salire La salire La salire La supra Ma non La supra Non l'avevo vista E dimmela che so Comunque io non sono andato a prendere Nessuna tipo di card Siete morti tutti Grazie Ma non c'è Ma siete morti Senza manco un pompa Ehi Un pompa Senza manco un pompa Del nonno Perché hai visto il pompa Nostro gioco Se ne era uno Del nonno Mi sembra qua sotto Vediamo guarda Ho appena spaccato Una bottiglia Che anche tu Ma io ho il falco Ma il problema è uno Però Non ho colpi piccoli Quindi Ma dammi colpi piccoli Non ho colpi del pompa Maledetta epic Maledetta Maria io non l'avevo vista Quella trappola Comunque Io quella trappola Non l'avevo vista Cioè io ve lo dico Quella trappola Non l'avevo vista Non cazzo Forza di laser Che neanche solo loro Sanno che c'è la trappola Ma anche io lo sapevo Ma ti pare che non ci mora una trota In quella trappola Se ci avvicino Ma non è Essere Ma loro sono la stanno Alcchiano 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 Ma che me l'ha ammazzato Che me l'ha ammazzato Non spammare Non spammare No 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 Non è che ci spara La Ma è che ci spara Però Attendo all'altro Guarda Sembra Non gli vuotare mai Le sp... Allora Da dietro No no non è da dietro È da dietro Che tu vuoi giocare Ti ho chi 5 euro No picchino al live Visto che è qua dietro È già arrivato Guarda dietro Ascolta a me Guarda ora Guarda ora dietro Oh sono là Stanno salendo M***o Ivan stanno salendo Di dietro Ah sì sì Ora sì Ora lo sento Oh ora però Prima nobrio Ora 43 di materiali hai? Che lo so La scala è buca Tanto E' luta Non nel frattempo Spacolo Fai le saltecce a 46 46 esatto bravo Magico Chiudi qua le scale Chiudi qua le scale Con un tetto Con un tetto Metti il tetto qua Oh risale di nuovo Metti due tette qua Ecco C Non l'ho capito No no E vabbè E gli ho fatto un po' di male No Sì cosa volevi fare Sì 36 Ho detto niente Me ne è privo di quel 36 Non l'ho capito Ma Mi avete fatto buttare A casa da Crist Per andare a San Giuseppe Noi Vabbè dai Fogo Colpa mia Per me Siamo stanchi Secondo me Secondo me Invece Possiamo fare di meglio Noi che Stiamo impegnando Eeeh Il coso Giallo Matchmaking annullato Perché Ah vai Ah vero Perché lui vuole questo Dai mettiamoci tutti i gatti Facciamo Va bene Mettiamoci tutti i gatti Ma la gattina non ce l'ho Gattina Where is gattina Chi ti pare che me la ricordo più Qual è la skin della gatta Io me la ne ho un cazzo Links Links Anch'io ci ho messo un po' a trovarla Ma io non la trovo Guarda deve Veloce di te What the fuck Non la trovo Ragazzi non la trovo Mi dispiace La stagione setta Ah qua 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 Ah come ho finito Finito come Catania Mettiti il lama gonfiabile Nooo Quella Ma è bruttissima Quella Cioè ma quella skin è Obrobiosa Noi abbiamo fatto una win con quella skin Ma che con la cosa Con quello che ho sommeggibile Il secondo sponsor È Whiskas Allora primo sponsor Chiquita E già prendiamo belle soldi Secondo sponsor Abbiamo Whiskas Whiskas Ragazzi vi faccio la proposta indecente Dove? Qua? Madonna mia sei pazza Sei Sei pazza? Pazza? Ma sei pazza? Sei pazza? Sei pazza? In live In me qualcuno Con me qualcuno Saluto Dove sei? Ma come vengo io con te Che qua c'è il mondo intero Intero Va bene andiamo a morire dai Cioè ma è anche un'arma che mi ha lasciato Manca che l'ha postata silenziata No tieni Dio Vabbè lascio io Io mi prendo un'altro pompa del nonno Dato che non mi hai dato gli shield in E altro Vieni qua Ale 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 Ho tutti gli shield in Ah perfetto Ok allora Vavo scherzando Cosa vuoi pompa del nonno? Fermala fermala Ida Ma che c'è gente? Dai Ida Ida Fermala qua Magico Ma che lui se ne va? Fermo qua E si scende ma sopra c'era gente eh eh si ma com'è eh si ma veramente avendo un'arma anche io ci vado no? ma tiro la pistola no 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 niente vieni magico dove sei andato che c'ho gente io qua a fare in culo eh qua c'eva uno arrivo ah ah oh dammi almeno la R no? oh dammi almeno la R maledetto e chi seppi che mi ha fregato le cose non dai raga siete in due la dai però no no non avevo pompa non avevo niente anzi scara a domicilio no ma non può essere due fight no dai però ho visto cosa succede questo succede una abbiamo fatta una ma dove va? ma magico ne ha due la raga ma ci siamo divisi che è magico dovevamo stare insieme forse facevamo qualcosa c'è quattro kg però vabbè comunque Ale abbiamo sbagliato noi abbiamo sbagliato noi perché noi dovevamo stare tutti e due insieme purtroppo tu sei morto e sono morto anch'io e loro due dovevano stare insieme uniti e Ida non doveva venire da noi ma senza armi eeeh vabbè quindi siamo stati sportunati 1 a 1 come film il Bad Spencer bravo ecco dai magico metti pronto dai 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 comunque si è fatto quattro kg magico non ve lo volevo dire si però Menelo sai qual è il problema se ci andiamo tutti insieme nella stessa casa che non c'è l'ulta boys cioè dovremmo essere due e due e comunque eravamo io e Dave Master che tutto sommato un po' ce la caviamo si ma con tre assalte eravamo solo assalti non avevamo pompa loro invece avevamo pompa grande e pompa piccolo ma io ho 5 pompa facevate una piccola cosa venivate nell'altro edificio ve li davo e si ma potevamo venire nell'altro edificio se non c'era quello che ci pushava oppure era forse Ale che ha pushato loro si mi sembra di si per me non comunichiamo non so comunichiamo attendere prego allora la nostra comunicazione è come quel link che ho messo oggi su facebook tipo le altre squadre tutte quattro insieme noi siamo uno a mille metri uno a 250 metri uno è la dietro in cucina che si sta mangiando praticamente la nutella oh la stessa nutella si siamo così combinati si siamo così combinati sordo muti si siamo persi ma la chat si è addormentata Karoo Karoo muoviamoci muoviamoci basta che rombo anche la sedia dopo la ciabatta si rompe la sedia e casco uno è restato a canicavado a catania uno è restato a via per bluscito ma allora io vado sopra chi va sotto se lo scelga ora andiamo tutti sopra tutti sopra tutti sopra così ci muriamo tutti in una volta forza 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 il primo che muore è un coglione ecco ah io ho trovato una bellissima pistola ragazzi la revolver 120 in testa fa ma che cazzo è che mi avete buttato ma che cazzo è che mi avete buttato eh WTF 120 ha fatto in testa l'armi Ale non è che tiri giù qualcosa dato che ma mi date qualche arma? si va bene a me non me le danno quindi vedi se te la danno a te no manco a me me la danno ecco loro non me la danno e io gli ho rubato la kill a Ale bravo grazie zombie per il tuo follow thank you very much benvenuti in questo pugno di tossici che non siamo altri ma questo scusi io ho fatto due kill con una semplice oh ma ok thank you very much ciao zombie ciao revolverazzo blu oh ma sta revolver fai i danni a qui ho fatto un corpo di culo in destra penso che ancora sta pensando ma chi me l'ha fatto fare entrare a me raga non ho no minchia questo spamma ragazzi questo spamma stanno riavviando qua stanno riavviando qua ma stanno riavviando no 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 sto calmo prima che si staccano tutte le cose un'altra volta ho spento i microfoni in questo momento sto assistendo a un momento di sportivecianza la città di io sono morto e del master non mi aiuta oh raga non sento più dei voist No, l'ultima, l'ultima, l'ultima Ma è rimasto qualche bomba, avete fatto la strage E' rimasto qualcosa, grazie E' il mio loot, ma va bene Va bene, va bene lo stesso, dai, alla fine lo so Venga, chi è che spara? Ma chi è che sparava? Boh Ah, beh, penso che era l'albe No, no, non ne avevo io Io mi devo fare un po' di legna perché non ho materiale, ragazzi Ma ce l'abbiamo la carta dita? La roccia Sì, qua, la roccia Dove? Ah, qua C'è gente, c'è gente, alla C'è gente, alla C'è gente, alla Mettici, carica, battere più veloce con la decine C'è faccio Mamma mia, alle sei Sei un god, sei, sei un god Eh, un god sto ragazzo, raga Vai, ricarica, ricarica Ida Bevi, bevi? In che senso bevi? Ah, certo Minchia, vero, grazie Eh, ragazzi, ma avete qualcosa per la vita? Raga, raga, ragazzo, c'è gente C'è gente qua da me, mi avete fatto tanto appena animata Come al solito No, vabbè, è una pompata questo, mi manco Un pompino, mi manco Vabbè, è forte, no Ivan è morto Avete abbandonato Ida Avete abbandonato Lambo Grazie, Ghost, per il segui Bella, Ale WTF, da lontano anche il pompa, così? Questo fa danni? Vabbè, vabbè, ma avevo 20 di vita È troppo poca vita Comunque quella Io vado a letto No Io vado Se volete farvi delle coppie voi Ma basta Ok Buona serata, saluto Ciao Ida Ciao, ciao Ciao Ida Allora, allora, allora Vediamo se c'è qualcuno per fare qualche altra partita Perché poi Ti faccio l'ultimo Anche mua stacca Allora, giochiamo in tre Ci facciamo questo qua in tv Dai, facciamo tre Ah, non c'è Ok Pensavo che c'è il serio Ci sono i shieldini là e non li ho presi E vabbè E vabbè E come diceva un amico mio Diceva E va bene All'altra Tanto Tu le compri le vite Le paghi? No Purtroppo siamo stati sportunati Un po' Con tutto Io Fra poco Spaccavo di nuovo Il computer E mi era preso una trotta La cosa in testa Ma comunque Ma è che ero un abissime Era un abissime Dio Ma anche una scuola molto Capavano fare Comunque Comunque ragazzi Io vi devo dire una cosa Ho preso la revolver A uno gli ho fatto 120 Dritto dritto in testa Ma è una potenza Se lo becchi Grazie Ad Apex giochi? Sì 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 E come se ci gioca Apex Anzi Ad Apex Noi Per dire la verità Cerchiamo gamer Perché siamo pochi No ma che game Pro player Permetto? Andiamo a morire Andiamo a morire Dai Come quella volta Ida Ida ci ha abbandonato Però una win l'abbiamo fatta Dai una win l'abbiamo fatta Grazie a chi però Sì grazie a chi Mi hai fatto cadere Sì Grazie a chi Avanti Forza Aggiungimi il suo rigide Dammi il Dammi il Dammi il nick Grazie a me Grazie a loro Vediamo come muoio subito Andiamo le cazze Le cazze le cazze non lo vedo Maronna mio le cazze sono tutte presse Maronna No lo no 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 le so No lo so No lo so Un colpo non è entrato Fa' il culo Ma come si può fare? Ci sono 350 persone E' pieno 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 Ma non si può fare una partita così Prendi il peperoncino Dove sono? Prendi il peperoncino Corri, corri, corri Corri, corri, corri Lancia bombe dove c'è la mia card Troppo presto Ma io non ci capisco un cazzo, è troppo veloce così E state fermo qua, state fermo Vai scendi sotto, scendi sotto, scendi sotto C'è loot sotto Vabbè solo è preso Vabbè non è che non ho loot Va vorrei dire Vai 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 guarda Vabbè non ho colpi Ma come non hai colpi, hai una metrietta non hai colpi Finisci subito Piazzala una trappola, piazzala Sale di nuovo Aspetta Ah ma io ci muoio Caru Tiene della metrietta Vabbè 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 Aspetta vediamo se prende la trappola No No Non l'ha presa vero? No no Vabbè comunque quello che ho fatto dai Me la sono un pochettino Giocate bene Aspetta aspetta Sì ormai sono uscito Sono uscito Sono già uscito ragazzi Io Fra poco Stacco perché non ce la faccio più Mi sono uscito da troppo Mi faccio una bella disena Vabbè io vado Ciao magico Ciao magico Ciao ciao Facciamo una coppia Facciamo una coppia va Vi guardo va Vi osservo Ci osservi Ciao 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 Con le coppie è più facile Ciao me ne fott Me ne fott Ah uno cosa Me ne fott Proprio Dai sei tu il cosa Sì ma io devo mettere le mie skin Quale volta la skin Ah è vero Mi metto anch'io la mia Andiamo a giocare Io senza Joe Wick Non mi sento Non mi sento Joe Wick Maria ma com'è che Prima ho spaccato la cosa Ciao Lillo Buonanotte Ciao Mere Buonanotte anche a te Comunque prima che ho voluto Spaccare la ciabatta Carusi No è perché mi sono Nervosito perché Non ti può morire In certi modi Dai 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 Spaccare Spaccare tutte cose Poi siamo sempre live Quindi Tu ti devi imparare Quando mettono Un piano sopra Devi mettere il tetto Anche Sì sì lo so In modo che li blocchi E loro anche Anche se i detti La prendono nel cuo Ecco Devi giocare tanto Con i tetti Non ti devi impanicare No Buonanotte anche a te Ah sì che non mi devi impanicare Sì vabbè Io se tipo Non esiste via panico Era un ninja E tu mi hai già stato Tranquillo Che amuriamo dai Tranquillo come Ross Ci vediamo domani Ciao Sì domani alle due Sono in live E poi Per questa settimana Beh no La devo fare anche venerdì Venerdì sono in live Un'altra volta Io ho sbagliato un pochettino Anche io Mi sono un pochettino Troppo Troppo corto Eh Poi il bercino corto In questo momento Prendi il tubo Non so Non già fai No E qua c'è la cassa Quindi prendo la cassa Scus 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 Qui c'è la lama Ok La sfoglia Per subito Chi è che è sceso E' bello ora Devo fare 3.50 3.50 Che cosa 3.50 I materiali Dall'ama Prima davano 2.50 Ragazzi Ragazzi Non ho mira Con questa Di pistola Ecco L'avevo fatto 75 Però io Non ho mira Con questa Pistola Non l'escrizione Non è un blu Non deboliare Dimma Non deboliare Non deboliare C'è un altro bravo erano due sul tetto sono due viva in piano devi mettere sempre eh no vabbè devo mettere il tetto devo mettere il tetto sono stanco anche eh cioè sono un pochettino arrivato a livello di... dai l'ultima dai però l'ultima me la voglio fare sono solo io a pensare che la nuova revolvera ancora deve morire ma perchè la nuova revolver vedi che non è male vedi che è buona chiude subito il merino Daniele non entro un colpo manca appagato non è vero vedi che entrano i colpi deve avere mira il problema è che ci vuole mira la vecchia ah quel chi quella la vecchia revolvere oh l'ho fatto 120 a uno per ben due volte ma quale è la revolver quello col merino no la revolver è quella normale quella quella con cui ho ucciso c'è nel casino il revolver ora hanno messo questa qua questa vecchia grazie correttix per i follow ah la vecchia è meglio ah ok la nottola fa pochi la nottola stiamo qua dove 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 qua dove all'hande eh all'hande me l'avevo messo tu mi hai detto no qua vabbè è buono no vabbè va forza questa è la gioco serie dai questa ci chiamo la serie dai da tu perchè sei morto subito perchè se tu ti uccidevi il calciatore io quello l'avevo ucciso eh lo so si ma con una pistola in una miscoglietta eh bravo c'è la tickle ma almeno ti avevo una tickle ok comunque domani passo dal negozio a ritirare i premi i premi quali premi? che vuoi? l'ho capito ah l'ho capito ah l'ho capito ah l'ho capito ah l'ho capito ma non c'è la cosa ma non andare sempre là no 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 ah non vado la e dove vado? che almeno ho trovato qualche arma io per il tempo passato ho fatto 2000 punti ancora il GTA point non si sa che cosa dobbiamo dare ma c'è qualcuno qua sopra dentro la casa vero? mmmm hanno il bomba ma tu sei non sei in casa what the fuck non sei in casa tu eh io qua so ah la c'è gente sta prendendo la e-ground qua sto per raga Un attimo che mi devo andare a fare le cose. Qua ci sono bende. Dove? No, 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 c'ho il kit medico. Sta arrivando gente. Eh, fa la roba. Tanto che muoiono tutti quanti, a uno a uno. Coppia pompa. No. Tutto legna. Comunque un pompa io non ce l'ho. Eh, io ce l'ho andato pianto. Ah, gente là. Aspetta, 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 aspetta. Stanno spaccando. 31. Questo è proprio un perso. Comunque il tattico bianco quanto fa a cagare. Ma quanto fa a cagare il tattico bianco, caro. Anzi, ora hanno aumentato i colpi alla testa. Sì, vabbè, ma sempre fa a cagare proprio la gara. Ha una rosa che si apre proprio quando una casa. Una rosa che si apre quando una casa. È assurda. Daniele, ma quanto me la porti la cucchia che c'hai a casa? Mi fanno capire. Vado a prendere le cose, va. Ah, qua non c'è neanche la cesta, oh, maronna mia. Non c'è niente. Ma non mi sta piacendo più l'andola. Ma questo dove è morto non c'è niente, si fa, eh. Faccio l'inversione, non mi interessa. Go! Qua c'è tra iardi in corpo, eh. Avevamo una destra, quando l'avevamo rimossa la metriza di John Wick. No, no, c'è. E nelle notori della feccia c'è scritto che è rimossa. C'è la pazzia. Quidi, hanno più pazzia di me. Le munizioni, questa volta, da qua, se le sono fortute. Ma, tanto, questo si potrebbe andare a... Che sei ricaricato? Vabbè, è ricaricato. Io ti posso lanciare qualcosa di assalto. Ma, sai, già, sarebbe un'ottima cosa. Grazie, Org, per il follow. Grazie a tutti. Ma senti il rumore da questo lato? Dove? Da qua. Sì, c'è c'è, c'è c'è, c'è c'è c'è. C'ho due jump, ci andiamo? No, no, è fuori safe, non è che me ne faccio qualcosa fuori safe 8 colpi pump, c'ho perciò non è che Facciamo schifo tutte e due, va Ma sono bellissime queste cose, oggi come... No, ma io non con queste, con l'altro oggi come ho fatto morire, è magico Alle risate, alle risate Lui era, aveva, era il grande, aveva tutto Gli lancio una palla di questa, lo becco in pieno, non di questa, di quella che prendi poi dando la caduta Madonna mia, lo uccido Ma non lo volevi fare apposta? No, certo che lo volevo fare apposta, ho detto vediamo se ce la faccio a prenderlo in questo modo Non c'è un po' di questa questa, in quanto è la porta Lo vabbò Ma se stessa da una palla? Ah no Ha louttato Llevo a loco a incato No si è louttato qua, si è louttatissimo Si è louttato, louttato C'ho una jump qua anche Si, così ce ne andiamo Ma che dici, andiamo in safe No no, andiamo nel light Dove andiamo? Al light Ecco dove ora Andiamo nel light Drop Sta arrivando gente da te Bravo, madonna mia sei bravissimo sei Bravo Complimento Spalla nell'altro Ivan Attento a guardare Prendi la bomba Prendi la bomba Prendi la bomba Prendi la bomba Esce dentro Non mi costruisce Non mi costruisce Non mi costruisce Vai tranquillo, vai tranquillo Non so perché ma non mi costruiva Prendi la bomba Prendi la bomba Prendi la bomba Ivan, Ivan Non mi costruisce Non mi costruisce Non mi costruisce Non mi costruisce Prendi la bomba Prendi la bomba Ok, bomba viola Ok, bomba viola Poi, vabbè, almeno questo non mi interessa Vabbè Lo devo prendere per forza Però questo te lo porto dai Non lo vuoi Barrett? Sbrigati, c'è la safe Non c'è problema per la safe Minchia è fuori Beh, non puoi Beh Non lo posso che dopo puoi alludere qua Hai perso Perdi troppo Perdi troppo tempo Ho fatto sfregare quattro kg C'è troppo badel Mi sa che me la dovrò fare da solo Vediamo, ecco qua Hai gente sotto Se lo sali qui sopra Tranquillo, ti metti questo Barrett Cambio le costruzioni No, mettete qua dentro Sopra sta perimetre Basta, non do muovere Sopra la perimetre Aspetta, aspetta Vai gioco No Vai Di essere sicuro? Vai No, no, no Che non sono sicuro del tiro Quindi non Non ti farei vedere Non ti farei vedere Scendi Guardate qua è basso Puntatelo Puntalo ora Puntalo Quello che hai sparato Non lo devi perdere mai Ed hai visto Va bene, lo devo andare in safe No, no Col Barrett Col Barrett Col Barrett Col Barrett No, col Barrett Gli hai estirato la kill Dio Non è bello Tutto ciò È il che è giusto È l'eserato la kill Basta Bello 40-40 Gli hai fatto Se c'è una jump una jump mi sembra che c'è la ricarica il barret lo puoi pushare a questo c'è gente là in safe e lo so l'ho visto tanto lui anche ha fatto si è perso la cosa non è un altro gente dietro hai hai gente dietro muovi il culo lasciali perdere lasciali perdere lascio perdere qua è la mia partita lascio perdere a quello gli ho trovato il culo quello che c'è là dentro vai 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 scendi scendi sali non sale da qua vai a quello sopra vai a quello sopra niente riscendi 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 perché adesso vengono quelli ma io però me ne sono andi in un posto bruttissimo ma do un esterno c'è sterno arriva un ultimo salvo avevi quelle di dietro avevi non puoi non puoi salire da qua devi fare tutto il gioco la teglia guarda ciao tommaso grazie per il follo vai 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 ma ci sono perso ovunque lo sai no? si lo so ma tu c'è a dare solo un poco mouse per tagliare non andare fuori devi risalire dall'altra montagna da qua mira l'ora mira l'ora mi mira ora state fermo qua guai ho visto dov'è? bravo fermo là fermo là bravo state fermo qua vabbè non c'è più guarda sempre guarda sempre guarda sempre guarda sempre state qua vai guarda dove ma mi sei scogliati scogliati allora siccome ti hanno pushato ora quelli là sanno che sei là giù sotto la mira giù sotto giù sotto lasciali per te vai vai tutto il gioco vai 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 approfittini ora che stanno pushando ma questi stanno pushando a me oh no quello davanti mi stanno pushando a te ci sono due bello oh così mi piace prendete sto scazzo di scarpe 7 bombe 7 bombe ragazzi 7 bombe il bar te ricarica subito col carico 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 allora stanno fermo qua in safe controlla le semi non le perdere mai di vista non le rivolzare mai le spalle puntate sempre a quello di sopra che è quello di sopra ce l'ha con te tenetelo bello puntato siete in 6 tranquillo che non la vinciamo questa se tu io che detesta si perché hai visto che ce l'ha fatto vai vai ora profite quando lui spalla what the fuck perché muro non mi prende da qua mi prende da qua vai mi stanno pushando cerca di pusharlo bravo bravo avvicine 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 te spam avvicine te spam avvicine te spam addio spam 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 vi cino te non te allontanare ma siamo in 4 io ma non è una squadra è a coppia addio e lo so minchia ma quello te lo rialzo di nuovo no no quello l'ha ucciso ok non hai visto che ho fatto la kill ne ho 8 quello te lo rialzo hai visto lascialo per me sono due cacciatrici muro 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 dietro 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 guarda dove sono basta lascialo perdere lascialo perdere lascialo perdere si sa dare solo una tagliata vedendo coppia costruisce sul fai più di un cubo fai più di un cubo aspetta a me dove sei credente da te la sei la sei devi stare qua per forza costruisci il mattone ora in gas ma fa tutto sto danno ah no subito un altro muro sopra 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 sali 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 sbagliato mannaggia a te girala sta scala gira ti prende ti prende ti prende ti prende ti prende lascia le perdere quelle di spammano a te nooo dobbiamo farle fai dare un attimino nooo 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 no nooo 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 stai notando i miei materiali Ma ho la scala al contrario Quelli sono là e quelli sono là Ma perché mi fatti il colpo se io non lo voglio fare partire Ma non ti fa costruire vedi, fallo cadere fallo cadere fallo cadere Vabbè io non posso fare Ma perché ci vai con la mitraietta? Perché ho sbagliato No, no, sto staccando Comunque, dai, alla fine ho fatto una bella partita lo stesso Mi confondo, mi confondo Mi prendo di panico, porca troia Mi prendo di panico Comunque, ragazzi Stasera, stop Stop 8 kill Quasi tutto il tempo solo sono stato C'è un wall and out No, 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 basta, basta, non ce la faccio più davvero Perché mi sento cotto o stracotto Domani alle due io streamo un'altra volta Quindi se tu ci sei, giochiamo Il balletto di chiusura Ciao a tutti ragazzi, alla prossima Ciao, ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti